Siamo in CMS, un'azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche per conto terzi, capofilo di un gruppo composto da sette imprese localizzate nella provincia di Modena tra Vignola e Marano. Per migliorare il nostro aspetto organizzativo e per essere quindi sempre più competitivi abbiamo deciso di installare nel 2012 dei magazzini Modula che ci hanno permesso di risolvere dei problemi in ambito logistico, in particolare nella movimentazione e nello stoccaggio del materiale a magazzino. Prima dell'adozione dei Modula utilizzavamo il classico sistema tradizionale a scaffali dove erano ubicati circa 5.000 tipologie di articoli. Avevamo dei costi alti di gestione in termini di tempo e di efficienza, soprattutto legati all'attività di picking e di refilling. Attraverso l'adozione dei Modula abbiamo prima di tutto aumentato la nostra efficienza organizzativa e abbiamo ridotto drasticamente il tempo di prelievo di quasi il 50%. Inoltre, anche grazie alla semplicità di interfacciamento al nostro gestionale SAP, i Modula ci hanno permesso di aumentare la precisione e la tracciabilità dei dati relativi in magazzino. Di fatto i Modula hanno permesso non solo di ottimizzare il prelievo dei materiali, ma anche di velocizzare molto l'attività degli operatori. Hanno anche contribuito fortemente alla riprogettazione di una parte del layout dello stabilimento. In questo modo è stato quindi possibile recuperare molto spazio in cui sono state realizzate delle nuove postazioni per l'assemblaggio e stazione di lavorazione. Per quanto riguarda i Modula sono molto comodi e veloci. Hanno tutto il materiale distribuito nei 49 cassetti, tutti segnalati con il proprio codice. Noi tramite la console richiamiamo il codice e abbiamo il nostro pezzo a portata di mano. Il prelievo e il refill per noi adesso è più comodo perché non dobbiamo sollevare dei pesi. Abbiamo il monitor che ci dice la posizione dove dobbiamo sistemare materiale e la quantità che o dobbiamo prelevare oppure dobbiamo versare. Non usiamo più il cartaccio e non utilizziamo neanche più le scale perché siamo fermi sulla postazione e il materiale a portata di mano. L'efficienza organizzativa e produttiva guadagnata grazie ai Modula è sicuramente al di sopra di quelle che erano le nostre aspettative. Tra la fine del 2012 e 2013 abbiamo installato 10 Modula e stiamo valutando di realizzare insieme alla System un progetto di medio e lungo termine per la realizzazione di un magazzino centralizzato. In questi anni abbiamo sviluppato un rapporto di fiducia e collaborazione con la System, divenuta una vera e propria partnership per il raggiungimento degli obiettivi stessi.